Lorenza Bonaccorsi, Presidente del Primo Municipio Roma Centro. Da qui al giubileo abbiamo un anno neanche scarso e quindi si sta lavorando tanto sui cantieri. Noi abbiamo in Primo Municipio, ovviamente, che insistono proprio sul nostro territorio, cantieri importantissimi come quello di Piazza Via, che è stato un intervento molto importante. Sarà, ma sarà anche una trasformazione di quell'area davvero in maniera, la renderà ancora più fruibile. Questo continuum tra Castel Sant'Angelo, Via della Conciliazione, ecco, una grande piazza, un grande spiazzo che accoglierà turisti, cittadini e quello è proprio il segnale che vogliamo dare di accoglienza e di modalità di accoglienza. Quindi uno spazio aperto, uno spazio bello, perché il tema fondamentale è quello della bellezza e del decoro. Noi come amministrazione comunale e ovviamente come amministrazione municipale su quello ci stiamo impegnando. È una grandissima sfida perché oggi abbiamo strumenti, ma anche risorse abbastanza limitate, ma lavoreremo sempre di più su questo. E quindi il lavoro di rimessa, quindi, oltre alle grandi opere, è anche di interventi puntuali sulle strade, sui marciapiedi, sui selciati. Noi in Centro Storico abbiamo tantissime strade con i sanpietrini che sono più complicate sia da sistemare che da rimettere a posto, ma anche su quello interverremo senza ulteriormente, in alcuni casi un pochino, intervenire sulla questione del traffico e della mobilità. ma insomma ci sarà tutto intorno alla zona del Vaticano, ma anche nel resto del municipio degli interventi importanti che ci porteranno al Giubileo. Grazie.